Ancora inconvenienti e inondazioni a causa del maltempo che ha colpito anche Molise questo pomeriggio. Le immagini delle strade della città completamente invase dall'acqua raccontano la violenta tempesta che ha colpito alcune aree della capitale creando molti inconvenienti per la rete stradale. Abbondanti precipitazioni che questa volta hanno influenzato maggiormente le aree della capitale di Molise. Numerosi interventi dei vigili del fuoco e in pochi minuti c'erano dozzine richieste aiuto le inondazioni e per la valutazione rami pericolosi, ma anche assicurarsi un tratto strada della vecchia connessione con l'ospedale Cardarelli che, a causa del forte piaggio e colpito da una frana frana.